in una terra in cui nulla è quello che sembra sta per nascere un nuovo eroe quest'anno siete pronti a conoscere la creatura più adorabile simpatica tenera del pianeta il nuovo capolavoro dal creatore di Shrek e Madagascar il regista di Shrek 3 non abbiamo più tempo, dobbiamo trovarlo dov'è il mostriciattolo? i mostri sono le creature più furbe del pianeta si nascondono dentro la pelle degli uomini e parlano come noi quella pelle stretta è insopportabile l'intero villaggio è pieno di mostri maestà, siamo qui per salvarli devi imparare altrimenti diranno che non ti ho educato bene non mi diciate adesso sei il mio uomo ora farai solo quello che ti dico io il regno di Wuba un film di Ramanui dal 12 maggio al cinema consigliato da RTL 125